Un altro passo importante verso la realizzazione del nuovo impianto natatorio della città di Fano è stato fatto nella giornata di oggi. Oggi è stato il giorno delle carte bollate e della sottoscrizione del doppio rogito nello studio del notaio De Martino in Via Nolfi, alla presenza delle parti interessate, il comune di Fano, rappresentato dal capo di gabinetto, il dottor Celani, e la dottoressa Vegliò dell'ufficio patrimonio, il dottor Tombari per la fondazione Carifano ed il fondo Cives, che con la firma entra così in possesso della Don Tonucci, mentre la fondazione ottiene il terreno dal comune sul quale investirà la somma di 5 milioni di euro per la realizzazione della nuova piscina. Da adesso si continua il lavoro per attuare sempre questo atto fatto nel 2016. Quindi portiamo avanti solo quello che era già stato approvato da tutti gli enti interessati e lo portiamo avanti, speriamo, in tempi brevi e quindi presto inizieremo i lavori. Da domani abbiamo la possibilità di poter presentare i documenti al comune per chiedere il permesso di costruire. Il CONI, per quanto riguarda la piscina, ha già dato la sua autorizzazione. Quindi stiamo andando avanti con il programma. Cruciale la presenza del comune nello studio del notaio questa mattina per la complessità dell'operazione, che ha visto all'opera due notai con la preparazione di due atti distinti. Oltre a De Martino, anche il collega Colangeli, che ha eseguito l'accessione del terreno, acquisendo però da parte del comune il diritto di usufrutto del centro natatorio per 30 anni. Un'operazione complessivamente da 8 milioni di euro, che consentirà in un sol colpo alla città di Fano di dotarsi di un nuovo impianto sportivo e di vedere realizzati 80 posti letto di RSA. Oggi è un'altra tappa importante, anzi direi significativa, ma soprattutto è la dimostrazione che quando si annunciano degli obiettivi, le persone serie, le istituzioni serie, come in questo caso la fondazione, l'amministrazione comunale e direi anche il fondo Cives, avevano annunciato e qui si è concretizzato. Parte un percorso importante per la città, non dimentichiamo che questa è un'operazione che porterà 20 milioni di investimenti in questo territorio, con tutto quello che ne consegue, ma soprattutto è un altro obiettivo che raggiungiamo, la città da più di 30 anni aspetta una nuova struttura per le attività notatorie, si aspettava una nuova piscina annunciata in tutte le salse, finalmente alle chiacchiere seguono i fatti, ci sarà una nuova piscina.